e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui in compagnia non troppa compagnia però in compagnia saluta non so se si sentirà nel caso stacco le cuffie ci siamo eccoci qua allora stiamo giocando da voli gas per questo mi citatissimo si sentirà frozen 2 che sta vedendo mia sorella ora mi sono allontanato spero che si sentirà giorgia tu ci sei ok allora e niente abbiamo perso giorgia ci credo dai ma eravamo pochissimi ci credo che con tre imposture iniziate dai ma perché io non capito mai imposture perché io non capito mai imposture dai vabbè no no non puoi far partire ora aspettiamo un altro bongo che entra l'altra gente aspettiamo 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 io mi cambio un po la skin mi metto il figlio sulla testa ho sbagliato metto il figlio sulla testa sì sì fai partire fai partire siamo tutti quanti allora vediamo un poco no basta però non ci credo non è possibile hanno preguittato non è possibile giorgia non mi direi che se non è un postore sei sicura? un po' scritta un postore ma vedete se questo è normale io non lo so allora io metto il formaggio in testa ho il formaggio con il bianco no il blu va bene puoi far partire c'è di nuovo akera c'è di nuovo akera vediamo un po' scritto e no è per la donna non ci credo no sei da niente sei sicura? io non ci credo no sei dall'altra parte della stanza vediamo akera è il morto brutto io non ci credo vediamo akera mannaggia pittu io lo votavo spero ma zi vota ma zi vai hanno schippato hanno schippato si ne ha presi tre soltanto che lo schippo ne ha presi di più perché? Qui c'è un affollamento alla security C'è un affollamento alla security E ho visto Akera che mi spuntava davanti come se niente fosse Ho fatto Non è morto nessuno comunque Chloe ha quittato e Puppo è morto Allora Sì Akera Mi vince Akera Ok Akera Votiamo Akera E speriamo bene Soprattutto A me basta un po' il volume Del gioco Spero Penso Speriamo Sì Dai ragà Votate Harker ha in poster Ha scritto Aspettiamo Tu mi senti bene Giorgia? Aspettiamo Giorgia Adesso si muore No io sento Sento tipo Sento tipo Sento tipo Tentro Mamma che prende le cuffie Ragazzi sentirete per un altro poco Il rumore di franzo in due Inietto le cuffie ora Speriamo che Niccolò voti Ma sai una cosa Che chiamo Allora Vai in chat Fai kick Allora Poi c'è un pulsantino Sotto il pulsante della chat Che è un calcio Con una botta Clicca e fai Niccolò Mi sa che Ecco E' stato cacciato Harker Non era lui Mi sa che abbiamo perso Allora Io a sto punto Io a sto punto Dubito di te Perché sei una persona Quello schifo Non Non ripremere il pulsante Grazie Troppo gentile Ok A fare cosa Io Io sto facendo le mie task Tranquillamente Non sei l'impostrice Volevi dire No Io non lo sono Te lo giuro Andiamo a fare Lo due Aspetta Che sono nella stessa stanza Però non lo sto facendo Allora Ho sbagliato Ho sbagliato di nuovo Sei uno Abbiamo perso Ok Non Non hai Tu I'm Pizza e mazzi Dai Raga Però Io non sto Scendo in postore Ah Comunque Mi sono dimenticato Di dirvelo Ma vi lascio Il link Del canale Di Giorgia In descrizione Mi raccomando Mi ha quittato Giorgia La creo io La partita Vai Aspetta Allora Esci Fai sempre Lo stesso Fai Codice G Q P E R Q Ho messo Tre impostori Comunque Ci sei? Grazie Allora Player speed La abbasserei un po' Eh Ok 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 Nell'attesa che arrivano i player Ok Rieccoci Sono entrati un sacco Quindi ora faremo partire Vai Starting Cambio il cappello al volo In che senso? Sì sì Tranquillamente No no Eh sì Escono i player Quindi non me lo fa partire Vediamo un po' No è però che cavolo Che cavolo No Raga No Giorgia Tu sei impostrice Quindi Sì Tu invece lo sei Sai Sai benissimo Di essere una bugiarda Ah Già è morto Black Doctor Non so perché Ha schippato Tutto quanto Vai Vai Ho capito Sì No Quase E Capito Vai Perché sono due impostori Cazzo No Sono stato chillato Da quel maledetto blu Che Cazzo Cazzo